Ehi, bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, qua i Diox e oggi siamo qua in un nuovo video sul canale. Oggi ragazzi vi andrò a mostrare come editare o anche creare da capo la propria skin su Minecraft. Vi farò vedere appunto come cambiarla, se ci sono dei particolari in cui volete cambiarla, se volete rifarla totalmente da capo o cose così. Prima di iniziare per ragazzi vi invito come sempre a lasciare like e iscrivervi per supportare sia il canale ma anche le serie come ad esempio la Vanilla che siamo già al cinquantesimo episodio. In effetti vi invito ad andare a guardare e anche ovviamente la Pixelmon che ritornerà presto sul canale. Detto questo direi di iniziare. Allora ragazzi, dovete fare, cioè inizialmente dovete andare su questo qua, SkinMC. Ce ne sono tanti di editor ma personalmente vi consiglio questo qua perché è molto più semplice e secondo me è anche molto più, cioè è tra i migliori personalmente. E quindi è questo qua, vi lascio sotto il link, SkinMC si chiama. Allora come possiamo vedere ragazzi ci dà come base il nostro Steve e se vogliamo creare al zero possiamo già iniziare a modificare lo Steve. Però ragazzi vi consiglio di scaricare una skin che abbia anche il second layer per modificare appunto anche le cose in 3D. Allora per modificarla ovviamente ragazzi dobbiamo appunto aprire, cioè portare qua una nostra skin. Allora quindi per farlo ragazzi semplicemente cliccate appunto sulla cartella e una volta qua praticamente o la trasciniamo o comunque la possiamo selezionare. Ok ragazzi io metto la mia skin e quindi adesso niente. Se no ragazzi volendo ho visto che praticamente qua mettete il vostro nome di Minecraft, ovviamente deve essere Minecraft Premium, cioè su Java Minecraft Premium. E appunto potete ottenere anche la vostra skin scrivendo il vostro nome che avete di Minecraft. Allora come possiamo vedere ragazzi qua nella nostra skin abbiamo i secondi livelli come ad esempio questi qua. Quindi innanzitutto ragazzi per modificare prima le parti interne ecco. Vedete qua c'è scritto overlay, ci tiriamo via tutto. Vedete come possiamo vedere qua, tiriamo via tutto e rimane la skin base. Ecco questa è base. Invece questo qua è il secondo livello che quello poi andremo a modificare nel caso vorremmo. Mettiamo in caso ragazzi che io mi sono stancato da avere la skin verde e voglio avere diciamo una skin blu. Cioè voglio farla blu al posto del verde. Ci sta ragazzi, ci sta. Quindi praticamente per modificare ragazzi andiamo su, sempre su questo qua, su draw e selezioniamo il colore. Ad esempio io voglio un blu, quindi voglio esattamente questo. E nulla, una volta ottenuto prendete cliccate la parte in cui abbiamo un blu. Magari adesso io voglio anche un po' di azzurro per sensare ad esempio questi. No, facciamo anche un pochino magari, esatto, un po' più di questo azzurro qua. Ecco e come possiamo vedere abbiamo già ottenuto comunque il cambiamento di colore che volevamo. Ecco magari facciamo così per ottenere esatto. E poi ragazzi voglio modificare ovviamente anche le parti queste qua. Quindi ovviamente magari tipo le parti più chiare le mettiamo così, sempre per dare contrasto. Poi magari le parti più scure le mettiamo sempre col blu un po' più scuro. Permettiamo caso ragazzi che io voglia prendere questo blu qua. E non riesco più a trovarlo magari andando qua. Facciamo questo, che praticamente preleva il colore. Lo preleviamo, facciamo questo e poi lo mettiamo qui. Come possiamo vedere ragazzi abbiamo ottenuto appunto lo stesso colore. Adesso io ragazzi voglio questo, quindi lo clicco con questo. Poi riprendo la penna e faccio così. E ovviamente ho lo stesso colore. Ora ragazzi, cosa molto importante. Per modificare il braccio interno, perché ovviamente ragazzi quando il braccio si muove c'è anche la parte interna. Facciamo così, così praticamente rimuoviamo. Ho sbagliato, ecco vedete ragazzi ho sbagliato. Per noi non l'avete fatto così e ve lo togli. Questo qui ragazzi ci permetterà di modificare anche la parte interna. Cioè togliendo il corpo, vedete così lo metto e così lo tolgo. Così praticamente mi modificherà la parte interna. Ovviamente sempre facendo così. Ecco come potete vedere già sta avvenendo un bel risultato. Come possiamo vedere. Una volta fatto questo ragazzi rimettete il corpo. E abbiamo modificato anche la parte interna. Stessa cosa ragazzi per questo. E ovviamente stessa cosa per le gambe ragazzi. Le gambe ovviamente possiamo fare la stessa cosa qua. Quindi facciamo così e facciamo la parte interna di questa gamba. Facciamo così la stessa cosa. O se no possiamo fare anche così se vogliamo modificare questa parte interna. Questa parte interna ragazzi non si vede. E infine ragazzi se vogliamo fare anche magari la parte sotto della testa. Come molti skin hanno tipo la faccina. Facciamo così e la possiamo fare tranquillamente. Poi possiamo togliere anche le braccia e la possiamo modificare tranquillamente. Ok. Detto questo qua ragazzi direi che possiamo passare anche a modificare il secondo livello. Per modificare il secondo livello ragazzi è semplice. Lo mettiamo. Quindi clicchiamo su questo. Poi una volta tolto ragazzi per facilitare il tutto tiriamo via appunto tutta la parte. Cioè lasciamo solo il secondo livello no. Quindi una volta fatto questo che rimane il secondo livello possiamo modificarlo molto facilmente. Quindi per modificarlo sempre facilmente ragazzi. Ovviamente ci mettiamo ad esempio magari il blu così. Così. E come possiamo vedere viene fuori veramente una figata. Per spostarsi ragazzi ovviamente basta che premete sempre con questo premete sul bianco. E vi spostate. Ed ecco qua ragazzi abbiamo modificato interamente il braccio. Una volta fatto questo ragazzi per vedere come è venuto rimettiamo proprio tutto il corpo. E come possiamo vedere verrà appunto così. Ecco vedete che qua abbiamo sbagliato. Quindi cosa abbiamo sbagliato? Ah abbiamo sbagliato la parte interna. Quindi praticamente facciamo così. Ah beh sì qua ragazzi qua non l'avevo ancora fatto. Quindi facciamo un attimo così. Facciamo un attimo veloce. Possiamo fare la stessa cosa ovviamente anche ragazzi con la testa. E con la testa ad esempio vedete che qua c'è il secondo livello. Tiriamo via la testa e lasciamo solo il secondo livello. Così lo praticamente facciamo la stessa cosa. Vedete facciamo così. Facciamo così. Così vedete che vi rimane solo da modificare la parte in cui volete. Vi consiglio di fare così perché ovviamente facilita di tanto la cosa. E appunto ve lo consiglio. Ah poi ragazzi se avete premuto vi fa tutto. Cioè vedete guarda se volete tipo fare questa striscia qua. Tenete premuto e ve lo fa tutte e due. Come possiamo vedere ragazzi è veramente un ottimo programma. Perché come vi potete vedere proprio sta venendo veramente molto bene la cosa. Qua ragazzi dietro non l'ho modificato. Però comunque vi voglio vedere bene come avviene. Ed è veramente un ottimo programma. Infine ragazzi se volete modificare ad esempio la... Se volete diciamo togliere tutta questa scritta qua. Cioè ad esempio la faccia del creeper se proprio la volete togliere. Ad esempio nel mio caso comunque se c'è qualcos'altro lo volete togliere. Non vi basterà altro che prendere praticamente selezionare il nero. E aspetta che tolgo anche il layer da testa. Ok. Mi basterà che praticamente... Aspetta che tolgo anche il layer. Ok. Mi basterà selezionare ad esempio il nero. E poi ovviamente metterlo qua e ricoprire tutto. Come ad esempio anche questo grigio qua. Lo usiamo e poi ovviamente possiamo ricoprire il tutto. Così. Io adesso ragazzi non lo faccio perché non lo voglio fare. Ok ragazzi ho finito la skin e appunto è muta così. Appunto io ho cambiato tutto. La parte verde con la parte blu. Perché appunto per farvelo vedere. Però come vi ho detto potete anche farla da zero. Comunque potete utilizzare questo modello per appunto creare un'altra. Utilizzare questo modello come i secondi libelli. Cose così. Una volta fatto ragazzi esonate il modello che volete. Ovviamente lo Steve per appunto le skin per maschio. Magari se volete invece la skin con ad esempio quelle per le ragazze. Vado ad esempio Alex. E invece per quanto riguarda la posizione fate default. E una volta fatto questo potete o salvare o comunque fate download skin. E appunto ve la scaricherà. E niente ragazzi. Io spero che questo tutorial vi sia servito. Ovviamente ragazzi con questo possiamo anche cancellare. Qua ci sono anche altre cose che comunque potete capire da solo. Come per esempio zoom. Queste cose qua. Che le sapete. Io spero che questo tutorial vi sia servito per modificare la vostra skin. O un'eventuale creazione da zero. Noi ci vediamo in un prossimo video. Da Alex è tutto. Ciao.